Sistema carcerario in Italia. L'Abruzzo certamente non si discossa da quella che è la grave situazione a livello nazionale. Tutti gli istituti di pena nella nostra regione hanno superato da tempo il limite massimo di capienza, per non parlare dei frequenti episodi di violenza, con l'aggressione al personale di custodia, alle risse e a una complessiva situazione fuori controllo. Quello del sistema carcerario in Italia e in Abruzzo è una vera e propria emergenza che andrà prima o poi affrontata dal governo Meloni. In questa direzione va letta l'iniziativa di Forza Italia con la campagna estate in carcere parlamentari azzurri in visita nelle carceri italiane per capire concretamente come la vita è dietro le sbarre e quali possono essere le soluzioni possibili. Questa mattina al carcere San Donato di Pescara la visita dell'onorevole Nazario Pagano. Ci sono molti più detenuti rispetto ai posti letto che sono in questo momento a disposizione. La vita dei detenuti all'interno delle carceri che deve essere una vita di riqualificazione e soprattutto di recupero. L'attività della polizia penitenziaria perché è giusto essere vicini anche a chi lavora all'interno di queste carceri. E ovviamente anche le attività collegate alla vita dei detenuti in carcere. Noi pensiamo ovviamente alle pene alternative rispetto alla detenzione e al recupero. Noi riteniamo che questa ormai sia divenuta una delle emergenze nazionali. E quindi la mia visita al carcere di San Donato di Pescara è collocata in questa logica per trovare soluzioni anche riferite ovviamente alle cose che ci diranno sia gli operatori della polizia penitenziaria che in questo caso la direttatrice del carcere. Il governo sta lavorando una riforma complessiva del sistema carcerario? Sta lavorando, è un tema ovviamente di una facile soluzione perché si tratta sostanzialmente di formare un sistema, nuove strutture carcerarie ma soprattutto c'è un'attività che è anche collegata alle strutture ma è quella legata anche alla popolazione carceraria, per esempio quella dei tossicodipendenti per verificare se è corretto ipotizzare che vengano ospitati per sostrutture alternative.